Quando sei in strada guida per bene. Le occasioni di incidente sono sempre presenti. Spesso perché in qualche modo ci abituiamo al rischio. È la stessa cosa rispetto al Covid. All'inizio fatto paura ora lo sottovalutiamo e riduciamo quelli che sono i comportamenti che ancora per un po' dovremo ottenere di buon senso senza eccedere come sempre. L'occasione di questa manifestazione è far vedere dal vivo con alcune prove, per esempio usando degli occhialoni che mimano la quantità anche più o meno elevata di alcol per far vedere cosa succede alla percezione visiva in questi casi. Con un crash test per vedere qual è la forza che la velocità di per sé può determinare con effetti negativi. Addirittura un esempio di un'autovettura che viene rovesciata e fa vedere cosa può succedere in situazioni particolari. Speriamo che tutto questo possa servire davvero quando sei in strada guida per bene.